Ciao da Avsim! Bisogna dire grazie ad Andrea Agnelli, grazie, un profondo, immenso grazie ad Andrea Agnelli per questa situazione che noi tifosi della Juventus stiamo vivendo e stiamo subendo. Grazie, grazie mille Andrea per averci fatto sprofondare un'altra volta in una situazione insopportabile, un'altra volta perché era già successo nel 2006, non era colpa di Andrea Agnelli, non c'era, ma era già successa una cosa simile, al di là delle intercettazioni, adesso frasi che forse non hanno nessuna rilevanza penale con Calciopoli c'erano tutti contro, questa invece ce la siamo creata da soli, parole di un dirigente della Juve secondo le intercettazioni, ripeto, tralasciando questo è chiaro che il collegamento tra Calciopoli e questa inchiesta Prisma e questa nuova situazione insopportabile è un collegamento facile da fare pur con le dovute differenze. Ma è qui che voglio parlarvi dell'atteggiamento della tifoseria juventina dal mio punto di vista, quello che osservo è quello che secondo me sarebbe giusto produrre, l'atteggiamento che sarebbe giusto tenere nei confronti di queste persone. Ecco, Andrea Agnelli è andato al Senato ieri in un evento al quale aveva già in programma di partecipare, che era già in programma, che era stato già fissato allo Juventus Club del Senato e tra le altre cose che avrebbe detto, ha detto anche che la Juventus è sempre al di sopra di qualsiasi persona, di chiunque. Bene, benissimo, è quello che ho sempre sostenuto. Peccato che in questi lunghi 12 anni la personificazione di Juventus in Andrea Agnelli sia stata un mantra all'ordine del giorno. Non puoi criticare Agnelli perché sennò non sei juventino. Agnelli ci ha portato a tornare campione d'Italia e poi ci ha portato a vincere due scudetti di fila, poi tre di fila, poi quattro, poi cinque, poi sei, poi sette, poi otto, poi nove. Poi c'erano le due finali in mezzo, più le Coppe Italia e le Supercoppe Italiane e ci ha portato Cristiano Ronaldo e tante gioie, questo e quest'altro, e non lo si poteva mai criticare per gran parte, per gran parte della tifoseria. Che non è soltanto una tifoseria libera, autonoma, indipendente, che pensa da sola, ma è anche una tifoseria manipolata, guidata, plagiata, da chi questi discorsi li ha portati avanti come propri contenuti. come propri contenuti, perché questa spaccatura nella tifoseria tra chi vuole avere un pensiero critico e vuole ragionare per sé senza farselo dire dagli altri e chi invece accetta quasi automaticamente tutto quello che succede è una spaccatura su cui qualcuno ha cavalcato, per restare in tema cavalli che alla Juve fino a questo momento almeno sono sempre stati pure loro all'ordine del giorno. Non è una cosa che si è creata da sola, non ci sono dei tifosi che autonomamente, ripeto, spontaneamente hanno cominciato a dire vai a tifare un'altra squadra invece di criticare Agnelli e snocciolavano ogni volta il palmaresse e così è stato anche per Allegri. È una cosa che è stata portata avanti da persone che generano contenuti. E non mi interessa adesso fare nomi e fare delle guerre e fare delle battaglie, almeno non in questo momento. Nonostante io abbia subito, abbia subito, abbia subito un bel po' di cose anche da chi ha portato avanti determinati contenuti, determinate idee, determinate spaccature andando in qualche modo a prevaricare. Stiamo parlando di questo, di prevaricazione. Parliamo di prevaricazione. Ora, qual è la differenza tra il presunto sciacallaggio mediatico contro la Juventus perché qualche giornale la ritiene già automaticamente colpevole e andare a screditare chi espone delle critiche quindi andando ad attaccarlo personalmente della serie siccome sei tu che parli, quello che dici è sbagliato quando magari quelle critiche erano costruttive. Qual è la differenza? Lo schema è lo stesso. Lo schema è lo stesso. Perché se c'è sciacallaggio, lo sciacallaggio consiste in sei la Juventus, quindi rubi. Siccome sei la Juventus, ah ecco, allora sono sicuramente colpevoli senza andare a vedere nel merito. Ed è quello che ho subito io dalle stesse persone in parte che adesso si lamentano dello sciacallaggio contro la Juventus. Siccome sei Avsim, stai dicendo cavolate e semplicemente tu odi Agnelli, odi Allegri e quindi non si guardava la luna ma il dito. E smettiamola di guardare il dito. Il punto è questo. Grazie ad Andrea Agnelli per cosa? Per i nove scudetti, per le finali, per i trofei o per averci sbattuto in questa situazione insopportabile? Perché questa situazione da chi dipende, scusatemi, dalle procure, dai giudici, perché sono impazziti, odiano la Juve e hanno cominciato ad indagare la Juve mentre la Juve non ha fatto nulla di male? Potrebbero anche essere assolti tutti, ma qualcosa l'hanno fatta. Che quel qualcosa non sarà reato è un altro discorso. Ma guardiamo quelle che sono le accuse, i fatti che vengono contestati. Stiamo parlando di una gestione pessima di una società. Una gestione pessima. E che adesso si dica il futuro sarà roseo, è tutto sotto controllo, adesso cresceremo. Ma scusate, allora negli ultimi mesi e negli ultimi anni, quando ci dicevate che non dovevamo criticare perché andava tutto bene, ci avete raccontato frottole? Se andava tutto bene, perché adesso ci dite che il futuro sarà migliore? Migliore di cosa? Andava già tutto bene. E allora vedete che andare a zittire le critiche poi vi si ritorce contro? Andare a prevaricare e a screditare poi vi si ritorce contro? Perché adesso alcuni non sanno cosa dire e sono letteralmente caduti dalle nuvole. Un fulmine a ciel sereno, non ce l'aspettavamo. Beh, dovete cambiare lavoro allora. Perché era già tutto scritto, era già tutto lì davanti ai vostri occhi, ma non avete voluto vedere. Perché finché il re è stato seduto sul suo trono, non faceva comodo dire che il re era nudo. Ma che appena il re è caduto dal trono, tutti vi siete accorti che era nudo, ma da mo' che era nudo. E quindi parliamo di comportamenti che anche se non saranno penalmente rilevanti sono beceri. Sono comportamenti che hanno distrutto la Juventus. Comportamenti che stavano distruggendo la Juventus e l'hanno in parte distrutta a livello sportivo prima che a livello contabile. Chi se ne frega dei bilanci? Il problema è che al di là se le plusvalenze fossero fittizie o meno e andassero contabilizzate in un modo o in un altro. Questa è una società che per il tramite dei suoi dirigenti sempre e comunque guidati e avallati da Andrea Agnelli ha aumentato a disvisura i costi riducendo progressivamente i ricavi per peggiorare dal punto di vista sportivo. Ed è una cosa sotto gli occhi di tutti da anni. Ma quando ve lo facevano notare screditavate, delegittimavate e andavate a puntare il dito e guardavate il dito e non la luna. E il problema era chi criticava e accusava e non l'oggetto delle critiche e l'oggetto delle accuse. State facendo la stessa cosa. È colpa dei giudici. I giudici indagano. Ma perché non vanno a indagare l'Inter? Ma cosa ve ne frega dell'Inter? Se l'Inter ha commesso delle irregolarità sarà indagata. Se pensate che i giudici siano corrotti o in mala fede denunciateli invece di fare i piagnistei sui social. E fossero piagnistei sui social del tifoso da bar che gira per la strada e non ha tempo di informarsi ancora andrebbe bene. Ma parliamo di piagnistei social di gente che magari ha delle competenze che magari ha delle professionalità che ha tutto il diritto dovere di studiare e di conoscere e mette in bocca manda praticamente addosso al tifoso qualunque che non ha tempo di approfondire la pappa pronta di dire i giudici sono contro la Juve ecco lo sciacallaggio mediatico ma quale sciacallaggio mediatico che sono anni che le sei principali testate sportive italiane Mediaset Sky Dazon Corriere Gazzetta e tutto sport sono a più riprese a favore della Juventus e ve l'ho dimostrato tante volte soprattutto con i titoli gigantografici sugli acquisti e tutte le lecchinate nei confronti di Allegri ne vogliamo parlare? Ancora con questo accerchiamento mediatico e quindi si mette in bocca la pappa pronta e tutti quanti a fare i pappagalli a ripetere ce l'hanno con noi questa è una nuova Calciopoli ma Calciopoli scusate da chi è venuta? perché c'è chi le sa le cose c'è chi le sa le cose ma forse non gli è convenuto di sottolineare certi aspetti allora ce la si prende con la stampa il problema è la stampa che racconta che magari esagera a raccontare perché vuole i click perché vuole le visualizzazioni dov'è il problema? dov'è il problema? è sempre stato così vi meravigliate? ma qual è il danno nei confronti di Juventus? che vengono raccontate le cose? che viene gettato discredito perché nel momento in cui appare una Juve automaticamente colpevole allora i giudici decideranno che la Juve sarà colpevole sull'onda del sentimento popolare il sentimento popolare nel 2006 fu utilizzato in un processo che era probabilmente irregolare dal punto di vista della procedura ed era un ambito sportivo se pensate che ci siano giudici anche penali che decideranno sulla base del sentimento popolare emigrate andatevene dall'Italia perché significa che non potete più vivere qui non avete fiducia minima nelle istituzioni e nell'applicazione della legge oppure denunciate ci rendiamo conto della gravità delle cose che si stanno dicendo e nessuno che va a dire nessuno che si prende la briga in tutto questo marasma di sciacallaggio clima di sciacallaggio di dire che Agnelli ha combinato in ogni caso dei pasticci inenarrabili al di là delle responsabilità non sto dicendo che è colpevole sto dicendo che è colpevole non dal punto di vista penale dal punto di vista etico dal punto di vista gestionale di fiducia da parte dei tifosi di rapporto con i tifosi ma scusate ma chi le ha fatte queste cose chi ha esonerato gli allenatori a casaccio chi ha preso le decisioni emozionali di cui parlava arriva bene quando arriva bene diceva quelle cose c'è stato qualcuno che ha detto forse arriva bene sta parlando contro Agnelli forse c'è una spaccatura nella dirigenza no mettevano tutto sotto al tappeto tutto sotto al tappeto e mettevano tutto a tacere perché era troppo scomodo dire che Agnelli fosse in difficoltà che Agnelli fosse in minoranza e poi Agnelli se ne va e dice che lui ha perso la compattezza ma guarda un po' allora la dirigenza era spaccata chi è che vi diceva che la dirigenza era spaccata io che poi venivo tacciato di essere anti-Giuventino di dover andare a tifare Inter e di volere il male della Juve sono stato definito il male della Juve da tanti tifosi ma quei tifosi da chi sono aizzati chi aizza quei tifosi chi genera odio nei miei confronti e nei confronti di chi critica la Juventus c'è qualcuno che sta generando odio credo proprio di sì credo proprio di sì quelli che presentano la pappa pronta quelli che ti dicono che va sempre tutto bene e che disconoscono i fatti guarda un po' sono caduti dalle nuvole non sapevano che c'era una spaccatura nella dirigenza non si erano accorti che la Juve aveva rinviato per ben due volte l'assemblea degli azionisti vi sembrava normale una cosa del genere e non ce l'avete raccontato e questo è solo la punta dell'iceberg è solo il passaggio finale ma ripeto io neanche ci vivo a Torino ci sono stato tre volte in vita mia sono state tre volte a Torino in vita mia di cui l'ultima tre anni fa è quella precedente proprio nel 2006 quindi sono mancato da Torino 13 anni cosa ne posso sapere io eppure mi sembra che so più cose io di come si muove di come si muove l'ambiente torinese di quello che c'è negli equilibri familiari di chi a Torino ci vive e Torino la racconta allora che cosa dobbiamo pensare che siete coinvolti anche voi nella coltre di nebbia dalla quale non si può uscire dalla quale non può uscire parola non vi conviene di raccontare certe cose ma ce l'ho con tutti ce l'ho veramente con tutti compresi i giornalisti perché si va evidentemente a convenienza quello che non si può dire perché è sconveniente non si dice e poi veniamo che ma non sapeva ma cosa non sapevate ma il problema non è questo perché va bene anche non raccontare determinate cose perché uno legittimamente non le ritiene rilevanti il problema è quando qualcuno le racconta e viene tacciato di appunto non doverlo fare perché il problema sono le critiche ma ci vogliamo rendere conto ripeto di che cosa hanno combinato se noi adesso stiamo soffrendo al pensiero di una nuova calciopoli perché la Juve potrebbe subire delle sanzioni sportive lasciamo stare che magari sarà soltanto un'ammenda o saranno solo dei punti di penalizzazione la colpa di chi è la colpa di chi è chi ha gestito i bilanci in questo modo al di là delle irregolarità chi ha fatto plus valenze come strategia di vita paratici e chi c'era come presidente di paratici prima che paratici venisse cacciato qualcuno è intervenuto per fermarlo qualcuno ha fatto qualcosa o sono tutti i responsabili moralmente di quanto è stata gestita male questa società l'indebolimento sportivo sistematico i soldi sperperati per giocatori a fine carriera gli stipendi che li evitavano giornalmente altro che annualmente a momenti ogni giorno a momenti salsava il monte in gaggi della Juventus giovani sviliti comprati e sbattuti in prestito senza un progetto senza un'idea allenatori cambiati come le mutande queste cose chi le ha fatte e stiamo ancora a dire grazie a Daniele per i nove scudetti che manco vi siete accorti che Agnelli non lo sa manco lui se Agnelli avesse saputo come si fa a vincere uno scudetto non avrebbe richiamato Allegri nel 2021 la dimostrazione che Agnelli ha vinto zero scudetti non nove zero scudetti con la Juventus di sua iniziativa di sua bravura è che nel 2021 ha pensato Allegri ha vinto cinque scudetti richiamo Allegri così vince lo scudetto cioè siamo proprio all'osservazione della realtà non dico non dico con stupidità ma quasi e quindi perché mi permetto di dire che Agnelli di scudetti ne ha vinti zero perché intanto Agnelli c'era già l'ultimo anno pre scudetti quindi nella stagione 2010-2011 il presidente era già lui Del Neri l'ho messo io l'anno di Del Neri l'ho fatto io poi è andato a prendere Antonio Conte che era un allenatore astro nascente ed è stato Antonio Conte con Beppe Marotta che ha portato allo scudetto al primo scudetto contro guarda caso il Milan di Allegri senza poi senza avversari andando avanti dalla stagione 2012-2013 mi dite chi sono stati i seri avversari della Juve c'è un'analisi che è stata fatta giustamente su Sport Italia tolta la prima stagione contro il Milan di Allegri la Juve negli altri otto anni soprattutto i primi aveva un fatturato e un montengalgi più alto quindi maggiore ricchezza di tutti i suoi diretti avversari per lo scudetto cioè non c'è mai stata partita Conte te ne ha vinti tre poi hai preso Allegri che non ha dovuto fare altro che aggiustare le cose che aveva già fatto Conte gli hai fatto mercati faraonici non c'erano avversari tant'è che la prima volta che c'è stato un avversario Sarri con il Napoli 17-18 abbiamo seriamente rischiato di perdere lo scudetto e praticamente ce l'hanno regalato loro perché fosse stato per Allegri non si sarebbe vinto lasciando stare il fallo di Pjanic e quindi veniamo fuori con Allegri che ha vinto cinque scudetti e allora com'è che Agnelli adesso in questi anni successivi non è riuscito a cavare un ragno dal buco perché Sarri che comunque lo scudetto l'ha vinto è stato mandato via ed è stato umiliato queste cose chi li ha fatte il problema è che queste dimissioni del CDI e dimissioni di Agnelli arrivano a seguito di inchieste a seguito di situazioni giudiziarie e quindi diventa facile dare la colpa ai giudici ai formalismi contabili in realtà non c'è nulla di sostanziale eccetera ma chiacchierate amabilmente chiacchierate pure la realtà è che per anni avete fatto finta di non vedere il disastro che era in atto e chi lo diceva ripeto veniva prevaricato vi dovreste vergognare siete responsabili di questo disastro perché se invece di mettere in bocca al tifosotto medio la pappa pronta che la Juve è accerchiata e che non bisogna criticare e di distribuire patenti di tifo se invece di quello avreste detto al tifoso medio cerca di ragionare con la tua testa distingui Agnelli dalla Juventus perché la Juventus viene prima di Agnelli distingui Allegri dalla Juventus perché la Juventus viene prima di Allegri e critica perché criticare non ti fa male e non ti rende meno tifoso probabilmente qualche decisione sarebbe stata presa in maniera diversa lo sapete troppo bene che queste dirigenze che si sono succedute soprattutto post 2018 i giocatori li hanno comprati a furor di popolo per avere il consenso dei tifosi che voi avete servito su un piatto d'oro perché eravate sempre pronti a dire chi siamo noi per lamentarci stanno prendendo pinco pallo non so manco chi sia ma siccome lo stiamo prendendo dobbiamo dire che è forte ci dobbiamo entusiasmare chi non si entusiasma non è vero tifoso sono anni che andate avanti così a instupidire a rincretinire una tifoseria che adesso punta il dito contro i giudici che stanno semplicemente facendo il loro lavoro e speriamo che lo facciano bene invece di creare noi un clima poco sereno accusando di sciacallaggio mediatico e di sciacallaggio giudiziario chi che sia quello è stato il problema sapevate troppo bene che la dirigenza con cui c'è qualcuno che crea contenuti che ha anche contatti diretti non aspettava altro non aspettava altro che il consenso fabbricato nei tifosi veicolato e plagiato da determinati soggetti e così potevano andare avanti giustificati sempre mai colpa loro ci siamo già dimenticati che meno di 12 mesi fa è stato comprato Vlaovic e sono stati derisi tutti tutti venivano derisi a gennaio-febbraio quelli che legittimamente avevano detto per me Vlaovic non viene me compreso perché il quadro era negativo e quelli che poi si sono permessi di dare al mercato invernale della scorsa stagione della Juventus un voto inferiore al 7 come ti permetti di dare meno di 7 eh hai dato 6 come ti permetti vergogna non capisci nulla di calcio e adesso siete i primi a dire che Vlaovic è scarso pur di difendere l'allenatore con cui avete sostituito la Juve per voi Allegri è la Juventus avete dimenticato che cosa sia la Juventus queste cose sono vostra responsabilità se aveste se fosse stato in grado di dare ai tifosi un pensiero critico e un'autonomia di giudizio tanti errori non sarebbero stati fatti perché la dirigenza che ha commesso quegli errori al di là delle responsabilità ci avrebbe pensato due volte e avrebbe detto forse stiamo sbagliando e avrebbe detto non abbiamo il consenso del tifo se i tifosi si rivoltano contro magari qualcuno se ne accorge che stiamo combinando dei pasticci invece eravate sempre pronti a giustificare tutto e non credo che questa giustificazione a prioristica sia stata fatta per amore di Juventus sia stata fatta davvero perché si credeva di essere tifosi migliori in questo modo in alcuni casi è stata fatta proprio per convenienza di rapporti diretti e di contatti diretti con certe persone per ottenere qualcosa in cambio qualcuno dovrebbe ammetterlo qualcuno dovrebbe essere onesto nel dire sì l'ho fatto io lo dico non l'ho fatto mai non conosco nessuno e non ho fatto mai una sola virgola perché qualcosa mi poteva essere conveniente sono sempre stato qui a dire quello che penso a cercare di generare pensiero critico nei tifosi non ho mai sbagliato certo che ho sbagliato un milione di volte e lo dico tranquillamente ma non è adesso a dire chi è più bravo e chi è meno bravo tra i creatori di contenuti tra i tifosi non è questo è proprio quello che avete fatto per tutti questi anni di dire chi è più tifoso e chi è meno tifoso chi va seguito e chi non va seguito chi va seguito e chi va demonizzato e adesso di che cosa vi lamentate vi lamentate dell'inchiesta vi lamentate dello sciacallaggio mediatico quello che avete fatto voi non nei confronti della Juventus ma nei confronti miei e di altri che per anni hanno criticato osservando quello che era sotto gli occhi di tutti avete capito il discorso qual è quindi grazie ad Andrea Agnelli di cosa grazie per questa sofferenza che stiamo vivendo grazie a lui grazie a Nedved grazie anche ad Arrivabene grazie a tutti quelli che hanno fatto cose sbagliate grazie a tutti quelli che hanno fatto cose sbagliate grazie a tutti i responsabili grazie grazie mille non avevamo bisogno di altro che di una nuova calciopoli osimiltale che di una nuova sofferenza come tifosi che di un nuovo futuro grigio annebbiato in cui non sappiamo dove andremo a finire ma chiaramente il tifo va avanti le speranze ci sono l'ottimismo pure resta probabilmente vivremo momenti migliori anche perché si era toccato il fondo ma quello sarà perché qualcun altro farà altre cose qualcun altro farà altre cose ma quello che è successo per arrivare fino a questo punto non è stato adeguatamente raccontato e non va bene adesso questa riconoscenza per come la vedo io riconoscenza nei confronti di Agnelli di cosa per cosa come se lui non avesse fatto anche questo certo che ha fatto anche questo ma continuate a guardare il dito e non la luna e sarebbe il caso di svegliarsi invece grazie per la vostra attenzione sottolineare sottolineare finalmente delle responsabilità nel momento in cui i nodi sono venuti al pettine ma detto questo io sono pronto a risettare tutto anzi riscriviamo le gerarchie della tifoseria juventina osservando quello che succederà e valutando da zero chi adesso rappresenterà la Juve e opererà in suo nome iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video con contenuti più oggettivi e di aggiornamento e di informazione e abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi eventi con tanti vantaggi extra eventi in esclusiva video in anteprima e programmazione quotidiana ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie